Non è la maniera in cui voi suddolamente avete pensato che questi venissero usati, bensì in una maniera ancora più abominevole. E quindi andiamo lentamente a scoprire i segreti che si nascondono all'interno di uno stavissimo armadio. Vediamo se è riuscita a fare così. No, 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 più, più di quello scrocchio, tipo così, come... Però neanche la pausa, bene, se non è che uno schizzi nostro. Oh, no, che vive nell'armadio. Tra l'avete toccato non mi ha fastidio. All'attimo sentite i miei morini. E quelli di manca nei tazzini. Pensate che non ci sia un remedio. Oh, oh, oh. Alvelo amano in quella mano. Buon crassi che mi dà consiglio. Yeah. Conoscchi di meno la sua figlia. E, e, e. Che quando arrivo il colcorale. Magari ngollare a quale. Noi stream, stream, che ci possiamo stare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.